Risate, musica, applausi. Ci ricordiamo ancora un'arena così, con più di mille persone sedute e un'allegria contagiosa. Anche quest'anno però, a causa della pandemia, non potremo rivivere la stessa atmosfera. Infatti la capienza è ridotta, ma grazie al piano di riapertura del governo, il mondo dello spettacolo inizia a rimettersi in moto. E se la curva epidemiologica nelle Marche rimarrà sotto controllo, all'arena BCC ai Tre Ponti di Fano si potrà partecipare a grandi serate in tutta sicurezza. Dopo la bella esperienza dell'anno scorso, il cinema l'ha aperto con Giometti Massimiliano e Carmine Imparato, che naturalmente avevamo fatto questo programma di tre anni. Il primo anno è stato all'altezza della situazione, sapendo che in primo anno c'è sempre la prima volta, però dal lunedì e giovedì riproporremo il cinema l'ha aperto dal primo di luglio al 30 agosto. E si tornerà anche a ridere, assicura Bartolucci, sia con i comici del San Costanzo Show, sia con il concorso di barzellette a Crepapelle, domenica 8 agosto, ma con alcune novità. Quest'anno non avremo dei concorrenti locale, ma avremo i quattro finalisti della Salle Ultima del 2019-2020. Perciò la serata sarà dedicata non ai soliti dilettanti nostri, ma a dei professionisti della barzelletta. Poi avremo il teatro dialettale con tutti i venerdì. Praticamente, devo dire quest'anno che siamo strapieni perché abbiamo giugno, luglio, agosto circa 80 serate. Infatti, spiega il Presidente, gli anni passati erano al massimo 25 le serate organizzate, nel nuovo calendario. Poi non mancheranno neanche i concerti. Riproporremo quest'anno, abbiamo Pacassoni, Marco Pacassoni col suo gruppo, avremo la cover dei Queen, avremo la cover dei Vasco Rossi, praticamente poi una serata con la Rossini Orchestra, che tutti gli anni fanno una serata da noi. Diciamo un calendario non pieno, ma strapieno. Infine, l'ultima novità riguarda la capienza dell'arena, che quest'anno verrà aumentata rispetto al 2020. I posti complessivi sono 1.050, ma in base alle norme anticontagio, la scorsa estate si teneva in considerazione la distanza di un metro tra spalla e spalla, per un totale di 470 posti a sedere. Poi però è arrivata la conferma che deve essere misurata da bocca a bocca. Alla fine, a settembre, è venuta fuori che la giusta era quella interpretazione e bocca a bocca. Perciò quest'anno sarà una sedia sì e una sedia no. Perciò dovremmo arrivare a una capienza, io dico adesso a spanne perché il nostro tecnico che ci dovrà valutare dovrebbe essere di circa 620-650 persone. Ottima direi perché è già un numero importante naturalmente di questi tempi, fare della serata già con 650 persone è un ottimo risultato.